È un nostro vanto di fare beneficenza, ma beneficenza in una maniera, pensiamo, molto innovativa. Noi vogliamo dare la possibilità a strutture come la Caritas di Palermo per poter fare in modo di poter dare dei pasti decenti a tutte le persone che purtroppo hanno bisogno. E quindi facciamo beneficenza nel senso che doneremo alla Caritas di Palermo un'eccezionale quantità di prodotti alimentari. Sono autotreni e autotreni di prodotti, tutti di prima necessità, quindi pasta, zucchero, caffè, olio. Conad è una grande azienda, con la fusione intervenuta due anni fa, Conad Sicilia è diventata il primo player regionale, quindi valiamo tanto. È un'azienda che ha 854 milioni a sell out di fatturato, quindi è inserita nel territorio siciliano in maniera molto pesante e presente. Soprattutto poi nella provincia di Palermo, guardate, abbiamo uno share del 28%, 133 punti vendita. Operiamo con più di 100 imprenditori locali, quindi della provincia di Palermo. Questo vale 33 milioni di euro che si trasformano in posti di lavoro e attività e tutto quello che volete. Quindi le nostre attenzioni sono massime, sono attenzioni dovute, credo, anche, soprattutto dovute, perché ritorniamo al territorio ciò che la nostra clientela in parte ci dà all'interno dei nostri supermercati. Questa tappa del grande viaggio qua a Palermo è strutturato su un canovaccio che prevede sia momenti appunto di divertimento e di incontro con i clienti, perché faremo delle iniziative in alcuni nostri supermercati con gli chef della compagnia degli chef in queste due giornate. Faremo anche attività sportive al Palamangano attraverso la collaborazione di Wisp. A seguito faremo invece anche un po' di spettacolo con il maestro Vessicchio, che farà un concerto gratuito sempre a Santa Sicilia. Il giorno successivo invece lo faremo in un'altra sala, sempre un concerto dedicato però soltanto agli anziani, un gruppo di anziani di queste strutture che non possono andare in giro, che li recogliamo nella mattina del sabato per fare un concerto dedicato loro sempre dal maestro Vessicchio.